Benvenuti a tutti sul canale The Traveler. Volevo fare una riflessione veloce su quanto sta accadendo in questo periodo in Italia e nel mondo per quanto riguarda il Covid-19. Una cosa molto triste è per coloro che hanno perso i carri, ad esempio, non poter fare un funerale, non poter fare tutti i riti che seguono comunque il funerale e non solo. Ovviamente la restrizione della libertà personale, sì, effettivamente dà fastidio però per un bene superiore che è il non contagiare gli altri e in primis non prendersi il virus in questione, è una cosa utile. Però non capisco una cosa, ci sono delle cose che mi sfuggono. Come mai, se devono essere vietati gli assembramenti di persone, i call center sono ancora aperti? Cioè, io ricordo l'anno scorso lavoravo a Lisbonne in un call center e qualcuno aveva un attimo di tosse e qua e là nel giro di un giorno o due giorni tutti avevano la tosse. Perché questo? Perché il sistema di climatizzazione aspira i virus, i batteri, i germi e tutto quanto e li diffonde. Qualcuno dice che ci sono dei filtri ma non sono sufficienti perché altrimenti non li avremmo preso anche nei piani diversi. Ragione per cui mi chiedo, come sia possibile che ci siano 70, 80, 100 persone anche di più ammassate all'interno della stessa stanza, dello stesso piano, lavorando in un call center? Poi per cosa? Allora, quasi nessuno sta volando. Penso nessuno stia andando in vacanza, quindi perché alcuni lavori come vendita di viaggi per alcuni tour operator ancora sono aperti? Perché sono ancora tutti ammassati nei vari call center? E lì è un attimo, cioè lo prende uno in strada o mentre va a lavoro e lo contagia tutti. Quindi la mia riflessione è, vale di più il lato economico o vale di più la salute delle persone? Io sto rimanendo a casa e non mi metto alcun problema. Dal lato pratico, se rimani a casa ovviamente l'azienda non ti paga e non dovrebbe essere così. Ci dovrebbero essere degli ammortizzatori sociali che fanno sì che queste persone percepiscano un ridito in modo che queste possano anche comunque comparsi la spesa, pagarsi l'affitto, pagarsi le bollette. Ricordiamo che gli affitti a Lisbona, cioè almeno di 700 euro a coppia non trovi. Io ne pagavo 350 per una stanza e in nero, perché non riuscivo a trovare un affitto col contratto. Deviando ovviamente da queste, diciamo, piccolezze, che tanto piccolezze non sono, mi chiedo ma è più importante quindi, come ho detto poc'anzi, la salute delle persone, cioè essere costrette ad ammassarsi all'interno di un call center, di un ufficio o di altri posti dove comunque le persone si ammassano per far girare l'economia comunque del datore di lavoro per cose che non servono, perché adesso i viaggi non servono, non serve prenotare e non serve niente. Se proprio vuoi dare un servizio al cliente ci metti due persone e non 70. Questa è una parentesi. Oppure è più importante l'economia, quindi economia da un lato, salute dall'altra. Hanno chiuso tutti i ristoranti, hanno chiuso tutti i bar, tutti i luoghi di aggregazione, non si può più uscire di casa per quanto riguarda l'Italia, presto sarà, diciamo, una cosa che penso andrà un po' in tutti gli stati europei. Come mai ad oggi, dopo che hanno visto un bel po' di persone morire, e non solo in Italia, per questo virus, come mai non si prendono misure di un certo livello, come mai gli uffici sono ancora aperti, le fabbriche, io posso capire la produzione di cibo, perché va nei supermercati, posso capire trasportatori, posso capire certe cose che indubbiamente sono utili, gli ospedali, ok, va bene, ma un club med, ma un club med, ma ce ne rendiamo conto un club med? Cioè di una la prima che mi è passata, un easy jet, non sta viaggiando nessuno, ma fai lavorare quattro persone con 70, ma il problema, o Ryan e Rucchi per loro, il problema è che le aziende che ovviamente aprono gli uffici all'estero, perché in Italia devi pagarmi 1.500 euro all'estero, me ne dè 680, io prendevo 680 euro al mese, io, io personalmente, 680 euro al mese netti, le aziende hanno fatturato i milioni, e adesso non hanno i soldi per fare gli ammortizzatori sociali, ci stiamo prendendo per il culo, vero? Sì, ci stiamo prendendo per il culo. Quindi se l'azienda chiude o riduce, chi non lavora non prende soldi, ma abbiamo fatto tante di quelle lotte per avere gli ammortizzatori sociali, in caso di emergenza, dove sono finite? Perché la gente sta zitta? Perché la gente non protesta? Perché non si fa qualcosa? Non c'è neanche più il calcio per dire ok, andiamo a guardarci la partita, per fortuna, finalmente, finalmente il calcio è ciao, finalmente, e molti calciatori riascano il virus, giustamente, vi è piaciuto giocare, tanto voi avete miliardi, i calciatori hanno i miliardi, hanno tutto e loro guariscono, chiaro, ovvio, si curano. Ma parliamo invece delle persone che prendono come me, prendevano 680 euro al mese, bonus a parte, perché con il bonus 13esima, 14esima, tutto si arrivava a 900, 13esima, 14esima, il bonus di produzione quando c'era, 900 euro, diciamo, ci arrivi. Come fa una persona come me, o come tanti miei colleghi che ho lasciato in Portogallo o da altre parti, a pagare l'affitto, o comparsi da mangiare, se l'azienda chiude, ovviamente, non ti paga, non è niente, poi voglio vedere come paghi l'affitto. Questa è una riflessione che vi invito a condividere, tutti quanti, in modo che si intavoli un dialogo con le aziende della serie, tu mi hai assunto qui all'estero, pagandomi la metà di quanto dovresti pagarmi a casa, e quindi se succede un'epidemia, tu azienda mi devi pagare perché ci sono gli ammortizzatori sociali e se non ci sono li creiamo ad hoc. Altrimenti cosa sono venuto a fare io qua all'estero? Fare la fame? E quindi, per questo motivo, io vi invito alla riflessione, a condividere questo video e chiedetevi anche voi stessi, vale di più l'economia, in senso lato, o in generale, mettiamola così, oppure la salute delle persone? Perché io, vedendo i miei colleghi che sono tutti ammassati in ufficio, mi sa che la salute delle persone non ve lo un cazzo. A sto punto, rifacciamo i funerali, che hanno un senso, molto più valido e molto più importante sicuramente per le persone che hanno perso un caro di un servizio clienti, senza ombra di dubbio, perché se perdo mio padre, mia madre, mia nonna, per lei, loro valgono molto di più di un servizio che posso dare a un cliente, io, poi voi degusti i bust, non entro in merito, quindi di conseguenza riapriamo anche i bar e i ristoranti, cioè perché se mi permetti di ammassarmi in fabbrica, in ufficio, per cose che assolutamente non hanno un senso logico, dove ci possono lavorare magari meno persone con gli spazi opportuni, allora io mi sento libero è delegato ad uscire, a fare il caffè, venderlo per strada, per dirne una, perché tanto, se io resto a casa perché penso sia una cosa giusta e lo facciamo tutti, il problema si risolve prima, se poi invece molta gente la finisce in fabbrica dove è pieno di gente, in uffici dove, sinceramente, il servizio che fanno, cioè, mi si guasta Sky, devo chiamare il servizio clienti, lo chiamerò a fine quarantena, lo chiamerò ad aprile, lo chiamerò il mese prossimo, quando le condizioni saranno diverse, perché altrimenti quelli che lavorano lì a Sky o da altre parti si contagiano l'un l'altro, rientrano a casa, contagiano i familiari, gli ospedali si riempiono di gente che ha necessità, non tutti possono essere seguiti e ci scappa il morto, il morto ci scappa nel reparto, non dopo che viene ossigenato tutto quanto, perché ovviamente non ci sono disponibilità, quindi queste aziende che fanno finta di niente, che non ci sia il problema, cioè dove lavoravamo io eravamo solo due italiani una settantina, più le altre lingue forse in quel piano eravamo 120, tutti ammassati, tutti ammassati e lì il sistema di erezione che disperde i virus e tutte le cose ovunque e io mi chiedo ma stanno chiedendo i ristoranti, i bar, tutto quanto e ci fanno ancora ammassare le persone al lavoro, qualcuno dice lavoriamo da casa e non tutti hanno la DSL a casa, il telefono per fare le cose e poi non ci sono sempre diciamo non si possono sempre seguire le regole e poi se succede qualcosa a chi chiede una mano e chi più ne ha più ne metta, quindi non so, questa è una semplice riflessione, quindi distribuite questo video che non contagia il virus, rimaniamo tutti a casa come sto facendo io, come stanno facendo tutti, aspettiamo anche un po' la situazione migliori e poi vedremo il da farsi, però non ritengo logico che queste in realtà siano ancora aperte e mettono a repentaglio la vita dei miei amici che lavorano lì perché sono miei amici, che rischiano di prendere questa patologia e di contagiarla ad altre persone senza volerlo e che sono costretto ad andare lì perché altrimenti non possono pagarsi l'affitto e il mangiare. A questo punto ci vorrebbe una soluzione drastica, l'Europa deve tirare fuori i soldi che li hanno, distribuirli in maniera equa, solidale e giusta a chi ne ha bisogno e non giusto per darli, anche se la Presidente o chi per lei della BCE ha detto che non è compito loro di distribuire lo spread e chi più ne ha più ne metta, che quindi loro pensano solo a fare i soldi, in sostanza tradotto in parole comuni ho visto dei video e questo è il senso. Quindi questo è tutto per adesso perché su The Traveler perché è un canale di viaggi e adesso non si può viaggiare ed è giusto comunque rimanere in quarantena osservare le regole e far sì che questo virus non venga diffuso soprattutto per rispetto anche alle persone anziane che potrebbero non superare la cosa ma anche i giovani. Ho visto un video di una ragazza di 42 anni intubata e guarita quanto pare per fortuna è un medico e se qualcuno avesse osservato le regole da prima magari lì non si sarebbe ammalata a questo punto. Quindi vi invito nuovamente a diffondere questo video che tanto non sarà neanche monetarizzato non so manco come si monetarizza su questa cosa però voglio che molte persone prendano coscienza del fatto che l'economia vale più della persona e che deve cambiare perché deve cambiare ci sono gli ammortizzatori sociali se non ci sono li creiamo come stanno facendo in Italia come fanno in Germania ed altre parti li creiamo in modo che la persona quando succede un qualcosa del genere possa stare a casa non essere contagiata non contagiare gli altri e non diffondere il virus that's all for now mi raccomando tutti uniti a casa ce la possiamo fare che ci sono